Nel 2019 sulle strade italiane si sono registrati 172.183 incidenti con lesioni a persone che hanno causato 3.173 decessi e 241.384 feriti. In media, rispettivamente, 472 incidenti, 9 morti e 661 feriti ogni giorno. Le statistiche provinciali elaborate da ACI e ISTAT mostrano una situazione molto diversa a livello territoriale con 43 province nelle quali il numero di decessi è aumentato rispetto allo scorso anno. Il periodo di lockdown imposto nel 2020 ha visto un crollo dell'incidentalità per alcuni mesi con punte fino a meno l'80%, che sulla base dei primi dati provvisori della Polizia Stradale si riflette alla fine del mese di settembre in una diminuzione di incidentalità e mortalità pari a circa il 30%. In questo quadro la provincia di Teramo ha pagato un contributo pesante con 17 morti, meno 2 rispetto al 2018, ma con 1.267 feriti, più 9 rispetto al 2018, e un numero di 854 incidenti, più 6, su un parco circolante di 283.720 veicoli. Di questi, 387 si sono verificati su strade urbane, 266 su strade regionali o provinciali e gli altri ripartiti tra altre strade entro l'abitato o in autostrada. L'indice di mortalità tuttavia è relativamente basso rispetto alle altre province abruzzesi, visto che Teramo ha un indice di mortalità pari a 1,99, preceduto solo da Pescara con un indice di 1,54, mentre Chieti ha un indice pari a 3,01 e L'Aquila un indice che sale addirittura a 3,66. Tra i vari comuni della provincia, Teramo capoluogo è quello dove si sono verificati più incidenti, 136, seguita da Roseto, 101, Giulianova, 91 e Martinsicuro, 66. I comuni che non hanno avuto sinistri sono invece per lo più quelli delle aree interne quali Arsita, Bisenti, Castelli, Castelcastagna, Cortino, Crognaleto e Pietracamela.